Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere questo errore su Windows 7 riguardo all'errore KB4534310 per risolvere questo errore ragazzi bisogna scaricare moltissimi driver per il tuo sistema operativo, se invece non vuoi scaricare questi driver e vuoi passare direttamente a Windows 10 e hai requisiti giusti per avere Windows 10 sul tuo PC e giocare a Roblox senza problemi come puoi vedere qui ti dirà tutti i requisiti di sistema per scaricare Windows 10 se avete un gigabyte di RAM bisogna avere 16 gigabyte sul vostro disco e al massimo il processo da 1 gigahertz o superiore se supportate questi requisiti installate il vostro Windows 10 e giocate a Roblox senza problemi se in questo caso non avete questi requisiti per passare a Windows 10 perché ci sono ancora utenti che hanno Windows 7 nel 2023 risolveremo in un'altra maniera quindi scaricando tutti questi driver più aggiornati vi ho lasciato questi driver in descrizione quindi ovviamente se io adesso provo a scaricare e installarli mi dirà che non posso installarli perché io ho Windows 11 ok? quindi non supporterà questi driver quindi noi lo faremo lo stesso questo è l'aggiornamento dello stack di manutenzione del 2019 qui ci sono le edizioni per Windows 7 per vedere che sistema operativo hai basta andare su questo logo di Windows sistema e qui puoi vedere che sistema di edizione di Windows hai io ad esempio ho Windows 11 Pro se in questo caso a te c'è scritto Windows 7 o Windows Server 2008 per esempio qua Windows 7 2008 scarica questo driver questa versione qua io adesso prendo una versione qualsiasi per farti vedere come scaricare questo prodotto ed installarlo quindi scarico questa qua 2019 vediamo questo Windows Server 2008 lo scarichiamo clicchiamo sopra Microsoft Update quindi per Windows Update apriamo il nostro driver programma di installazione Windows Update Autonomo impossibile applicare l'aggiornamento al computer ovviamente come ho detto io ho Windows 11 non posso installare questi aggiornamenti di Windows 7 quindi provate ad installarli voi sempre in descrizione ci sono le versioni più recenti c'è quella del 2019 che è questa sempre 2019 altri sistemi quindi come puoi vedere rispetto a quest'altra pagina ci sono più edizioni ok? più driver per altre edizioni quindi e qua c'è quello del 2020 quindi scaricate il vostro driver per questo errore e una volta scaricato e installato vi consiglio di riavviare il vostro sistema operativo cioè riavviare proprio il sistema e spegnere e accendere il PC quindi se avete problemi commentate se vi è stato utile questa guida lasciate like iscrivetevi al canale se in questo caso non dovesse funzionare avviate Roblox come amministratore provate ad avviare Roblox come amministratore quindi esegui come amministratore sta installando vabbè un driver comunque come ho detto se vi è stato utilissimo questo video ragazzi iscrivetevi al canale lasciate like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao